Si è suicidato nella sua cella del carcere di Velletri, Marco Prato, accusato dell'omicidio di Luca Varani, il ragazzo ucciso nella capitale il 4 marzo del 2016 durante un festino a base di sesso e droga. Domani avrebbe avuto l'udienza del processo. E' stato trovato durante il giro di ispezione con un sacchetto di plastica in testa. Sarebbe morto soffocato. Il suo compagno di cella non si è accorto di nulla. Prato aveva 31 anni. Il PM di turno ha autorizzato la rimozione della salma su cui verrà effettuata l'autopsia. Per l'omicidio di Luca Varani è già stato condannato, inabbreviato, a 30 anni, Manuel Foffo, che con Marco Prato, aveva seviziato e ucciso la vittima. Prato, a differenza del co-imputato, aveva scelto il rito ordinario. Il ragazzo ha lasciato una lettera, in cui spiega i motivi del suo gesto. Si sarebbe suicidato per le menzogne dette su di lui, e per la tensione mediatica subita. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.